Ciao a tutti siamo qui al Motor Days con delle ragazze stupende e mi sono alzato improvvisamente abbiamo diciamo subito i nomi Grecia Grecia di Sedi Venezuela Venezuela condoglianze per la morte del presidente Hugo Chavez che è successo ieri si lo so va bene non parliamo di politica no 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 meglio di no parliamo di moto parliamo di moto molto più bello molto più bello e vi invito al Motor Days fino a domenica e al palco del Motor Days che si trova al padiglione numero 3 e anche a insomma guardare tutta la fiera prima ti ho visto vicino a Max Biaggi si stamattina si e anche a Bugno al Corridore complimenti cosa hai provato? beh emozioni si si tanta va bene devo dire che il Venezuela ha delle ragazze bellissime proprio in genere spesso Miss Mondo, Miss Universo spesso è venezuelana complimenti adesso capisco perché quindi passiamo invece ad un'altra ragazza ecco cerco di alzarmi che si chiama? Aurora Aurora italiana no no vediamo se indovino è difficile è difficile è francese no no è difficile greca quasi quasi Montenegro no no metà greca metà greca metà bulgara 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 quindi è anche una ragazza dell'est possiamo dire alta circa un metro e novanta circa due metri senti cos'è il siamo al Motor Days qual è la moto più bella che hai visto fino adesso? ancora non ho fatto tutto il giro però adesso lo sto facendo tu vai in moto? si mi piace che moto hai? ce l'hai una moto? il mio ragazzo ha una moto suzuki una suzuki?